Vai su quei lavori dell'orto! Allora, adesso io per vedere la consistenza del fatto devo chiedere a questo che vedremo e quello perché è di là del ponte. Come faccio a chiedersi? Questo è il 200 e quello è il 139. Queste sono le partigette. Questo è il 3,5 milioni di ragazza, quindi questo è un giorno per fare i rischi, perché è il 4 milioni di ragazza, quindi anche se ci sono il 4 milioni di ragazza. È il 4 milioni di ragazza. È il 4 milioni di ragazza. È il 4 milioni di ragazza. C'è un miso di ragazza. È il 3 milioni di ragazza. abbiamo anche un drone che ci osserva non passano i 10 uomini dietro, c'è anche il drone se non l'avete fatto, sono andati dentro, faccio il passo no, no, ma basta già quello che ho fatto no, non lo faccio, non lo faccio perché? vieni, devi farti la cosa, hai fatto l'autorizzare per andare sul suo terreno e poi alla fine ti trovi il fatto che ho l'autorizzare adesso l'ha fatto e lo faccio ma io non metto in dubbio che arriverà alla contestazione dei discorsi ma quando arriva io devo fare una contestazione su dei pacchi questa qua è una violazione e questa va rinforzare